ad un altro prestigioso collega Rory Smith non ha potuto salutare Katia perché non era nelle condizioni di poterlo fare non sapeva che ci fosse Katia a casa ma invece qui può salutare Katia con un bacio e un abbraccio magari Silver Mele di Sport Italia e posso anche confessare che è la mia divina, quindi la saluto, un bacio grandissimo a Katia ti aspettavo qui, ho dovuto accontentarmi di Bruno, è un buon amico ma evidentemente non è la stessa cosa Senti Silver, siamo praticamente nel teatro che è la sede di tutte le conferenze di presentazione di questi primi colpi del Napoli oggi abbiamo assistito e abbiamo ascoltato anche le parole di Raphael allora ti chiedo anche un'opinione più che altro sull'impatto che ha avuto secondo te Raphael all'interno del gruppo e anche oggi in conferenza stampa Ma guarda Bruno, secondo me c'è una costante che è comuna, Raphael agli altri volti nuovi che sono già presentati Dries Mertens e Cagliahon, scopriremo sul campo quando si incomincerà a fare sul serio se sono dei campioni però hanno tutti quanti carattere e personalità, questo è importantissimo anche oggi Raphael sulla falsa riga di quanto avevano fatto Mertens e Cagliahon si è presentato in conferenza dicendo che non pretende la maglia da titolare ma è qui per giocarsela che non ha paura di affrontare lo Stadio San Paolo come potrebbe, tra l'altro un ragazzo che a 13 anni ha subito un lutto gravissimo come la perdita della mamma, lui è cresciuto e ha raggiunto la maturità come uomo e poi sul campo ha già giocato davanti a 100.000 persone, evidentemente però non conosce ancora la spinta quanto possa essere forte la spinta del San Paolo ma la conoscerà presto ha caratteristiche importanti che abbiamo apprezzato sul terreno di gioco secondo me è un colpo importante anche perché è giovane, 23 anni, ha già vinto tantissimo nel suo paese stiamo parlando di uno che ha vinto la Coppa dei Campioni Sudamericana quindi è un portiere da protagonista, quindi è sicuramente un grande colpo del Napoli in attesa che arrivi l'altro portiere non sappiamo se arriverà un titolare o magari una chioccia come avrebbe dovuto essere Giulio Cesar però sicuramente il futuro del Napoli è in buone mani Ecco, hai accennato tu alla questione dei portieri secondo te come sta affrontando psicologicamente Morgan De Santis questo inizio di ritiro praticamente con la valigia in mano? Sì, sull'uscio di casa praticamente, sta per andare via, andrà via però è un grande professionista perché anche vedendo gli allenamenti ad esempio oggi c'è stata un'esercitazione, i tiri in porta da parte di quegli attaccanti che non erano impiegati negli esercizi per la difesa e guarda caso, insomma, impeccabile Morgan De Santis è un grande professionista, si sta comportando così lo vedo anche triste e appesantito dal punto di vista del morale quando incrocia gli sguardi dei tifosi che non lesinano applausi e dimostrazioni di stima per uno che ha scritto la storia recente del Napoli perché non dimentichiamo i record che appunto ha sottoscritto Morgan se dovesse andare via, così come credo avverrà si porterà sicuramente il consenso di tutti i tifosi del Napoli I colleghi prima di te hanno detto Mertens, lo ha detto Pepe Ferrario di Mediaset e Kayekon invece lo ha detto Francesco Modugno di Sky per Silver Melle chi sarà la rivelazione di questo Napoli soprattutto chi ti è impressionato in questi primi giorni di ritiro? La rivelazione sarà Leandro Damiao, mi butto Katia raccoglierà sicuramente, ci provo almeno il migliore, il più brillante a me è piaciuto molto Mertens perché lo avevo già apprezzato non tanto con la maglia dell'Utrecht ma quanto con quella del Pesvea in Doven devastante secondo me può essere utilissimo anche nella maniera in cui è inquadrato da Benitez partendo da sinistra per poi accentrarsi e calciare questa è una sua specialità e quindi dico Mertens in attesa che poi possa arrivare ancora qualche altro giocatore magari qualche campione dal mercato però Rafael ha dato una grande indicazione oggi parlando di Leandro Damiao dice ha caratteristiche molto simili a Cavani nel senso che non è esclusivamente un terminale offensivo ma è uno che corre tanto che crea gli spazi e questo secondo me è fondamentale per il Napoli di Benitez che punta su tanti trequartisti sui giocatori che si sanno inserire e sanno calciare quindi quello dovrebbe essere l'identikit dell'attaccante che arriverà ribadisco Katia, Leandro, Damiao e poi c'è l'attestato di stima di Rafael vedremo insomma ti abbiamo visto oggi ghiacchierare con un maestro di tattica che è Paolo Del Genio esatto allora magari avete parlato di quella che potrebbe essere la posizione in campo di Pandev che in questo momento sembra un po' un oggetto misterioso all'interno dello schema di Benitez però vedi Bruno Pandev rientra proprio tra quei trequartisti che potrebbe far male inserendosi e poi ricordi come era bravo lo è tuttora Pandev nella verticalizzazione credo il migliore che il Napoli abbia avuto in rosa anche lo scorso anno palloni al bacio che metteva in verticale nel giro di 5-6 metri per Cavani che poi andava in porta per me Pandev è un campione è un grandissimo giocatore che tornerà utile al Napoli però è inutile girarci attorno con tutti questi giocatori di qualità sulla trequarti ci sarà tanto da sgomitare quindi chi comincia con questa maglia alla stagione deve sapere che sarà così grazie a tutti grazie a tutti